Ragazzi prima di iniziare il video se volete giocare con me leggete la descrizione c'è il link della crew E seguitemi su instagram sempre il link in descrizione Bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GTA 5 online in un nuovo nascondino Mamma mia ragazzi Non vi ho riportato nascondino da un bel po' di tempo Quindi ora facciamo un bel nascondino Ho messo due round qui Sta a girapasco e alla cavolo di cane Se no lo so neanche io che sta facendo Allora aia Cerchiamo di non morire subito Qui abbiamo le mine ragazzi Qui abbiamo le mine Quindi siamo in mezzo ai palazzi E possiamo fare pure parkour Allora Perfetto Ok No qui non riesce a salire Qui c'è un June 02 selvatico con l'elicottero Mamma mia Allora Gli avversari sono ancora lì Stanno venendo con l'ambulanza Penso perché sento le sirene Allora Ok Allora se andiamo di qua Scale a chiocciola Che figata Qui c'è un Steve selvatico Bello Steve Ok ragazzi Stanno arrivando Stanno arrivando Dobbiamo stare un po' camperati Mi raccomando Sono qui Ci fanno veramente fuori Oh Già sento esplosioni Persone che saltano in aria Sento pure una mina Oh oh E che è sto qua Oh Ok Oh 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 Steve Allora in teoria dovrebbero Essere qui Mamma mia Onnaccetta Scappa 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 Se sto qua esplodendo vicino a me Oh Hai fatto esplodere Perfetto L'avversario Qualcuno ha La pistola ragazzi Dobbiamo stare Veramente Attenti Ecco All'avversario Dove Mannaggia Veramente A questo Avversario Mannaggia Proprio a te Qui Pasquini Sta facendo La pausa pranzo Grandissimo Da parte che Sto registrando Verso Le Sette di sera Quindi Quindi sarebbe Pausa serale Sarebbe Non lo so Intanto Gli avversari Dove stanno Allora Qui tra qua Che stanno andando Verso Di Pasqui Allora Vediamo Che sta per morire Non lo so Perfetto ragazzi Round Predente Prossimo round Ok ragazzi Ora siamo alla porta Dell'ambulanza Quindi dobbiamo Andare a ricercare I criminali Cioè Quelli che si nascondono Non so cosa prendere No raga Mi sono sbagliato Scusate Non è l'ambulanza Ma è la buffola Mi pare che si chiama Quest'auto La macchina Dalla polizia In borghese Ok Andiamo 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 Perfetto Giriamo Così Ok Fuori dalla zona Ma È normale Ok Aspettate Ok Non voglio scendere Ora Ok Qui c'è un Steve selvatico Da trollare Vai giù No c'è te Che mi sono Il claxon Qui In teoria Ci sono le armi Non lo so Aspettate che Do un'occhiata No 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 Però un nemico Ha preso L'elicottero Ok Scendiamo giù Scendiamo giù Ragazzi La sfortuna È con noi Allora Siamo atterrati sopra Il tetto Mamma mia Allora Abbiamo gli avversari Davanti a noi Qualche arma Qualcosa Non si può trovare Non lo so Aspettate Aspettate Che qui Il tacchettino Che qui Il tacchettino Oh Oh Mannaccia Ma cosa Mi hanno fatto Secco Qui Pasqua Sta ancora In pausa Pranzo Ragazzi Scusate Se nel video Non lo dico Ma Questo round L'abbiamo Vinto Ok Nuovo round Terzo round Che vince questo Vince tutto Ok Andiamo subito A prenderci Le mine Da dove si prendono Ste mine Qua giù però Io non vorrei Scendere subito Perché qui C'è Pasqua Sempre in pausa Pranzo Viene qua giù Oh Una ciotta Chi è Non lo so Neanche io Qui ci sono le mine Quindi Dobbiamo stare attenti Abbiamo 4 mine A disposizione Quindi Non è il top Dei top Ok Ma in teoria Si può risalire Ragazzi Non lo so Ah si si Ci sono le scale Apposte Ci sono le scale Apposta Intanto Gli altri Ci devono Ancora Recuperare Allora Vediamo un po' Da dove Possiamo Risalire Ah no Siamo già Risaliti Dove sono le mine Non lo so Allora In teoria Spero qui Sì infatti Per far la ricarica E gli avversari Per ammazzare Pasqua Fanno così Boom E fanno saltare in aria Allora Abbiamo fatto la scorta 5 Sì sì Ok Ora andiamo Alla ricerca Mamma mia Andiamo alla ricerca Degli avversari Che si stanno trollando A vicenda Complimenti a loro Ma dove stanno Ancora lì Mamma mia Allora Sono messi Veramente male Intanto Jun Sta facendo fuori Tutti Grandissimo Raga Io non mi voglio Far tutto a piedi Quindi Prendiamo Questo bel Veicolo E andiamo Alla ricerca Di quei Maledetti Zingari Che non scendono Da quella Maledetta Pedana Oh c'è un civile Da trollare Aspetta Sei ancora vivo Sì Lo posso trollare Vediamo un po' Wow Non dirmi che è ancora vivo Anzi si è morto Perfetto Intanto ho consumato Le mine Non volevo Consommarla Così Ma ora Andiamo a fare la ricarica Ma voglio trollare Questi qua Cerchiamo di non Succidarci Però Ok Intanto Ho mostrato Sti due qua Sti tre Quella che è Ok Scappa 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 Che ci Uccidiamo Poi Fuori tutti Fuori tutti Ok Qui non ci passiamo Me lo sono immaginato Qui Ho fatto fuori tutti Qui Ho fatto fuori pure Me stesso GG Per me Ok ragazzi Il compagno Steve Ha ucciso Il nemico Finalmente Partita vincitore Ora come In ogni LTS La riavviamo Però ora Soltanto Un round Con Notte Temporale Piovoso Ok ragazzi Eccoci qua Nella partita Intanto Qui c'è Un Tacchettino H47 Channel Grandissimo Ok Eccoci qua Nella nuova partita Chi vince Questa partita Ufficialmente Ha vinto Tutto Ok Allora Buttiamoci Voglio andare a prendere L'elicottero Quindi Andiamo subito Via 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 Ok 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 Andiamo ad ammazzare Quei maledetti Perfetto No No Guarda che seme trolli Guarda che seme trolli Brutto zingaro Di uno Vieni qua Vieni qua Mannaggia Ti faccio Esplodere Quel catorcio Vieni qua Mannaggia Vieni qua Guardalo Guardalo Che Ok Aspettate Lui è convinto Via Fuori dalle Bowls Ok Via 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 Andiamo Perfetto Abbiamo ancora mine Non lo so Ok No Non abbiamo mine Non me lo dire Intanto Qualcuno È forse Inattivo Quindi Andiamo a prenderlo Ok Vediamo un po' Chi è Eh la madonna Guarda Quanta gente Che mi sta sparando Ok ragazzi È ufficiale Abbiamo perso la partita Purtroppo Comunque Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Sto video Lasciate Iscrivetevi Condividete E noi ci vediamo Alla prossima Bella ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima